via la zurunica per cinque aziende territoriali più vicine ai cittadini presentata oggi la riforma del servizio sanitario regionale per acquaroli è l'inizio di un'inversione di tendenza preleva l'acqua pubblica da un torrente per irrigare i suoi campi agricoli proprietario multato dai carabinieri forestali oragini avvallamenti sulla strada comunale di ferriano a fano dopo anni di attesa e proteste dei residenti partono i lavori di asfaltatura laboratori musica degustazioni e shopping fino a tardasera Fossombrone prende il via South Summer tutti i giovedì fino all'11 agosto Cari telespettatori buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di occhio alla notizia lo avete sentito dai nostri titoli dopo 19 anni la regione ha deciso di superare il modello dell'asur unica e da gennaio 2023 nasceranno cinque aziende sanitarie territoriali verranno valutate l'efficienza e la produttività ma anche l'operato dei direttori generali efficienza efficacia e autosufficienza per una sanità vicina al cittadino è capace di dare risposte concrete in breve tempo si basa su questi pilastri la riorganizzazione sanitaria della regione che dà una vera svolta al sistema esistente la riforma è frutto di un lavoro lungo e complesso ha detto il governatore ma è solo l'inizio di un'inversione di tendenza infatti dopo la modifica della legge 13 deliberata ieri dalla giunta viene superata l'asur unica nata nel 2003 all'epoca ha precisato Acquaroli c'erano esigenze completamente diverse e in 19 anni la regione è cambiata profondamente soprattutto nella conformazione dei territori dall'invecchiamento della popolazione alla denatalità nelle aree interne variabili rilevanti nel piano socio sanitario tra l'altro uno studio del fabbisogno svelerà le richieste e le carenze nell'erogazione dei servizi intanto si va verso un percorso che porterà all'entrata in vigore della legge entro 45 giorni alla soppressione dell'asur il prossimo 31 dicembre e all'avvio delle nuove asta cioè le aziende sanitarie e territoriali dal 1 gennaio 2023 nella stessa data l'azienda ospedaliera Marche Nord verrà incorporata nell'assa di Pesero Urbino una delle cinque previste dalla riforma queste insieme all'IRCA di Ancona e all'azienda ospedaliera universitaria delle Marche andranno a formare gli enti del servizio sanitario regionale ciascun ente si articolerà in distretti, dipartimenti e uno o più presidi ospedalieri inoltre come ha spiegato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini le singole aziende dovranno rispondere a tutte le domande delle prestazioni sanitarie e dovranno auto-organizzarsi già nel prossimo gennaio con l'atto di conformazione previsti anche degli uffici dedicati alle relazioni con il pubblico e i direttori generali dovranno garantire dei riscontri tempestivi i procedimenti infatti dovranno avere risposte entro 30 giorni la sanità, aggiunto l'assessore, dovrà essere giudicata dai cittadini che in forme diverse potranno valutarne la qualità mentre la conferenza dei sindaci dovrà esprimersi sui bilanci e sugli atti di programmazione delle aziende oltre a dare un giudizio sul direttore generale un parere obbligatorio ma non vincolante i cittadini dovranno apprezzare concretamente che non ci potranno essere più lunghe liste d'attesa che le prestazioni dovranno essere adeguate e in tutto questo abbiamo bisogno evidentemente dell'aiuto di tutti dei cittadini, soprattutto degli operatori sanitari e delle organizzazioni sindacali dei sindaci che avranno un ruolo principale nella programmazione della sanità diciamo che mettiamo in campo tutte le risorse del nostro sistema democratico paese e quindi a quel punto ci giocheremo una partita penso che possa cambiare la sanità che finora abbiamo conosciuto altro tema affrontato in conferenza stampa è stato quello del personale che dallo scorso dicembre è diminuito di 30 unità è qui che Acquaroli ha ricordato l'aumento già messo in campo sia delle borse per i medici di medicina generale sia quello dei contratti di formazione per i medici specialisti siamo consapevoli, ha commentato il presidente che se vogliamo dare una risposta questa è l'unica strada percorribile dunque una riforma che punta ad un potenziamento dei servizi territoriali con investimenti sul personale e sulle case di comunità una sanità di prossimità senza ospedali unici e soprattutto un ruolo più importante affidato ai comuni e a tutti i cittadini perché rende protagonisti i territori rispetto ad una dinamica che finora li vedeva sempre più poveri e meno pieni di servizi e di opportunità sicuramente non è solo con una legge l'individuazione e la votazione di una legge che si superano tutti i problemi ma è un nuovo inizio che cambia il modello e il presupposto Continuano serrati i controlli a tutela dei fiumi dei torrenti in tutta la provincia di Pesaro e Orbino ieri i carabinieri della stazione forestale di Pesaro sono intervenuti nelle vicinanze del Fosso delle Serre a Monte Labbate dove hanno scoperto una pompa a motore endotermico che mediante una tubazione prelevava abusivamente acqua pubblica utilizzata poi per l'irrigazione di campi agricoli e privati il proprietario che non possedeva alcuna autorizzazione dovrà pagare una sanzione che potrebbe arrivare fino a 4.000 euro inoltre i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti nello stesso sito perché hanno rilevato altre condotte illecite in materia di gestione di rifiuti di polizia veterinaria e di custodia degli animali domestici Sono partiti alcuni giorni fa i lavori di asfaltatura della strada comunale di Ferriano a Fano un tratto molto contestato dai residenti per le numerose buche allora sentiamo i particolari nel servizio di Filippo Pucci Le immagini girate con le nostre telecamere nel settembre del 2020 parlavano già da sole sullo stato di degrado in cui versava il tratto della località Sant'Angelo più esattamente lungo la strada comunale Ferriano i residenti hanno protestato più volte contro l'amministrazione per le numerose buche e l'impraticabilità di quella zona portando disagi non solo a loro ma anche ai camion che riforniscono le varie attività del luogo in questi giorni con l'avvio del cantiere e delle asfaltature sono partite le operazioni di riqualificazione del manto stradale con una particolare procedura sono molto contenta di essere qui perché finalmente diamo una risposta a quei cittadini che hanno protestato possiamo dire anche giustamente per le condizioni di questa strada perché era veramente in una condizione pericolosa non si poteva più mantenere così infatti dopo i vari rallentamenti dovuti anche all'aumento dei costi alla preparazione del cantiere finalmente possiamo dire che stiamo intervenendo è una strada importante di collegamento e infatti il lavoro che si sta facendo qui non è mai stato fatto per una strada periferica è una lavorazione che parte dal pacchetto stradale quindi si sta facendo proprio tutto il fondo dell'intera strada per poi eseguire un'asfaltatura a freddo l'asfaltatura a freddo permette alla strada di essere più elastica rispetto alla tradizionale asfaltatura quindi per una zona di periferia dove ci sono movimentazioni del terreno è molto più flessibile quindi in futuro il mantenimento di questa strada potrà essere molto più facile e più semplice la strada è lunga circa 2,2 km e la stabilizzazione del terreno e tutto questo lavoro sul pacchetto stradale è un impegno economico importante per il comune di Fano ma siamo contentissimi di averlo fatto perché appunto diamo veramente una risposta importante soprattutto sicurezza stradale sicurezza a tutti i cittadini che percorrono questa strada in tema di provvedimenti per superare la crisi idrica il Consiglio regionale delle Marche ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna il Presidente della Giunta a chiedere al Governo di estendere anche alle Marche lo stato di emergenza già dichiarato lo scorso 4 luglio per altre 5 regioni ed ora torniamo a parlare del biodigestore perché oggi sul tema è intervenuto il Partito Socialista di Fano che chiede una nuova valutazione politica riaprendo la trattativa con Marche Multiservizi salvando Aset S.P.A. Tiziano intanto le chiedo qual è la fotografia attuale la fotografia attuale è che c'era un progetto con Marche Multiservizi per realizzare un biodigestore a Fano questo progetto non si è costruito un voto in Consiglio comunale dove una parte del PD ha votato con il centrodestra ha aperto una forma di manifestazione di interesse con altre società che di natura privata o privatistica hanno manifestato il loro interesse a realizzarlo queste società sono state esaminate dal tecnico comunale incaricato e si è composta una proposta in cui due aziende, Acea e Ferronia dovrebbero essere la parte societaria che interagirà con Aset per la costruzione del biodigestore questa cosa è improponibile noi riteniamo doveroso che il Consiglio comunale revochi l'interpello riapra la trattativa con Marche Multiservizi valuti complessivamente le offerte che ci sono e si ritorni a comporre un quadro politico che porti Fano in una condizione di sviluppo e di progetto salvando Aset che ha 300 dipendenti professionalità molto elevate e di fronte si ritrova ad avere la gestione delle gare dei servizi pubblici che potrebbero compromettere l'equilibrio della nostra struttura Aset che è partecipata dal Comune di Fano ultimo aspetto essendo questo un problema di carattere politico auspichiamo che da parte del partito più rappresentativo di questa maggioranza comunale vi sia un'assunzione di responsabilità anche a livello provinciale per risolvere una questione che corre il rischio di diventare preoccupante annosa e di grande rischio per la società di Aset doppio appuntamento a Pesaro per Lorenzo Guerini domani il ministro della difesa parteciperà alla cerimonia di scoprimento della stele dedicata ai caduti di Nasseria alle 17.15 nel parcheggio di via Belgrado in Baia Flaminia a seguire alle 18.30 sarà in prefettura per la firma del protocollo sulla sede della nuova questura di Pesaro il ministro sarà accompagnato dal sindaco Matteo Ricci torniamo a Fano dove è stata approvata all'unanimità la mozione del Movimento 5 Stelle che introduce il question time del cittadino grazie a questo istituto durante il consiglio comunale i fanesi potranno fare domande direttamente alla giunta su temi urgenti o di attualità politica sentiamo l'approvazione in consiglio comunale della nostra mozione del Movimento 5 Stelle sul question time del cittadino è un'importante novità per la cittadinanza fanese questo è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle quello di avvicinare la cittadinanza all'amministrazione facendo seguito al decreto trasparenza del 2013 dove si parlava di ampliare le possibilità di relazione tra cittadino e l'amministrazione con il question time del cittadino ogni cittadino potrà direttamente parlare con l'amministrazione in cosa consiste? consiste nel protocollare sul sito del comune oppure tramite la modulistica che a breve verrà messa a disposizione dagli uffici del comune una domanda, un'interrogazione, un dubbio che ogni cittadino fanese può avere riguardo qualunque problematica della nostra città poi il bello è che il cittadino stesso verrà chiamato in consiglio comunale proprio come succede a noi consiglieri comunali a proporre questa sua interrogazione questa sua domanda a sentire la risposta del sindaco e dell'assessore competente e poi a dare o meno il suo gradimento questo ripeto è un vecchio cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle perché l'idea di avvicinare la cittadinanza l'amministrazione per noi è fondamentale era già stata fatta questa interrogazione nostra nel 2017 dal collega Fontana però era stata bocciata perché era stato detto tra le altre cose da qualche consigliere che si sviliva il ruolo del consigliere comunale per noi invece è tutt'altro noi abbiamo il compito di vigilare quello che fa l'amministrazione e di fare delle proposte in questo caso questa proposta è stata accolta finalmente favorevolmente da tutto il consiglio comunale con la sola stensione della Lega però questa è un'opportunità grandissima che ogni cittadino ha di fare domande direttamente all'amministrazione e di avere direttamente delle risposte per noi è fondamentale la vicinanza vista anche la lontananza che c'è con le ultime elezioni del cittadino all'amministrazione speriamo che i fanesi ne colgano l'opportunità e si avvicinino all'amministrazione su questo suggerimento del Movimento 5 Stelle di Fano Cambiamo argomento il Paese dei Balocchi annuncia una serata con il giornalista Luca Pagliari che mercoledì 6 luglio alle ore 21 nell'ex chiesa di San Francesco a Fano presenterà al di là dell'acqua ovvero la storia di Renato Cesarini il centravanti campione d'Italia nato a Senigallia proprio a lui si deve anche la famosa espressione zona Cesarini questo evento come ha sottolineato il presidente del Paese dei Balocchi Michele Brocchini precede la manifestazione che torna in piazza Bambini del Mondo dalla 18 al 21 agosto al termine dello spettacolo di domani sera giunto Brocchini sveleremo chi sarà il sindaco del Paese dei Balocchi 2022 ma anche tante altre novità ci spostiamo a Fossombrone dove giovedì 7 luglio prenderà il via a Soul Summer la serie di iniziative dedicate a grandi e piccini con l'apertura straordinaria dei negozi fino alle 23.30 letture per bambini laboratori spettacoli itineranti e sfilate di moda si chiama Soul Summer la rassegna che dal 7 luglio all'11 agosto amminerà Corso Garebaldi a Fossombrone con i giovedì più frizzanti dell'estate nata dalla collaborazione tra la Proloco Forum Semproni l'associazione dei commercianti e quella dei ristoratori Soul Summer è l'evento con il quale l'amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare questo centro commerciale naturale che per l'occasione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto un corso abbastanza animato da iniziative allestito devo dire come non mai e quindi siamo in un tema gioioso credo di poter dire e quindi diciamo un bel momento che sicuramente sarà piacevole non solo per passeggiare lungo il corso per prendere un po' anche di aria fresca serale ma anche per fare shopping nei nostri negozi dunque un'occasione unica per tornare a condividere momenti di aggregazione e spenseratezza a rendere magica l'atmosfera contribuiranno anche le lampade e gli arredi floreali è un altro dei momenti che cerchiamo di mettere insieme per far ripartire un po' come dire il buon umore la voglia di stare insieme la voglia di vivere una comunità che è importante durante il Soul Summer non mancheranno musica dal vivo e degustazioni previste ogni giovedì sera dalle ore 21 e ci saranno anche degli spettacoli legati ai bambini per i bambini e proporremo anche delle serate enogastronomiche all'interno del Chiostro di Sant'Agostino facciamo un invito a tutti i cittadini a partecipare al Soul Summer il giovedì di luglio e agosto vi aspetterà un'atmosfera molto frizzante per l'occasione i negozianti rimarranno aperti fino alle 23.30 tra le novità anche il logo della rassegna ideato dalla Nautilus Carboni un logo quindi super colorato così come colorata Fossum Brune in questa estate strepitosa ricordiamo anche l'apertura di tutti i negozi commerciali tutti i giovedì sera quindi vi aspettiamo numerose Fossum Brune per vederla veramente come poche volte l'avete vista e passiamo al grande successo riscosso dal Paglio delle Contrade che nel fine settimana ha visto il centro storico di Fano diventare protagonista della revocazione medievale a cura del gruppo storico La Pandolfaccia musica, giochi e spettacoli hanno intrattenuto il pubblico da venerdì a domenica sera sabato poi la firma ufficiale del gemellaggio con gli sbandierattori di Rastat che ha reso la non edizione dell'evento ancora più coinvolgente e suggestiva la contrada del Vescovado che comprende le frazioni di Bellocchi Cucurano Chiaruccia Falcineto Carrare San Cesario è stata la vincitrice dell'ambito palio grazie alla gara del tiro la fune ora si guarda al futuro nell'ottica della decimedizione del palio evidenziato il presidente Fabio Frattesi abbiamo bisogno della collaborazione da parte di tutte le istituzioni e non solo per sfruttare al massimo le potenzialità di questa revocazione e di un'associazione sempre pronta a mettersi in gioco senza mai tirarsi indietro e con il palio delle contrade chiudiamo qua il nostro telegiornale vi ricordo che domani mattina alle 7 Massimo Foghetti condurrà la rassegna stampa e poi il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni 338 49 68 250 buona serata a tutti grazie